ciao a tutti benvenuti su macerix tutorial oggi voglio farvi vedere come effettuare la scansione dei canali tv dal decoder team box in alto a destra andate sul simbolo del vostro account in questo caso il disco volante entrate qui scendendo in basso su preferenze una volta entrati in preferenze c'è la voce scansiona canali dtt entriamo qui e parte la sintonizzazione dei canali tv se vi da assenza di segnale è probabile che il cavo dell'antenna non sia correttamente collegato quindi controllate il cavetto dietro il team box e il cavetto che parte dal muro accertatevi che sia collegato correttamente e cliccate su riavvia se lo avete collegato in modo corretto la sintonizzazione dovrebbe darvi questo esito una volta terminata la sintonizzazione dei canali su tv sarà disponibile il digitale terrestre sperando che il video sia utile lasciate un like condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale infine vi ricordo nuovamente scansiona i canali di tt ciao a tutti un abbraccio da majalix